Huracan Zombie Apocalypse Ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti nuovo video che grigio si allora continuo con i video che grigio perchè mi piace un casino e anche perchè mi soddisfano si allora dunque mi vedo truccata perchè non potevo più vedere tutta sconcia, tutta sfatta quindi mi ha dato una bella ripristinata ma a breve mi rivedo di nuovo sfatta ma vabbè dettagli fa troppo caldo per truccarsi ma io anche se non sono molto allegra non lo devo vedere che sono molto allegra ma in questo caso volevo truccarmi infatti ho già fatto questo trucco così oddio sti ciuffi vedete? così non so se vi può piacere questo trucco ed è bellissimo mi piace a parte gli occhi rossi che io ho deciso di fare questo trucco e mi piace non mi dispiace per nulla anzi è molto carino lo potete riprodurre anche voi se volete e niente praticamente secondo me 19 e 19 non so se si possa vedere però sono appunto le 19 e 19 vedete? no non si vedrà mai però ve lo dico io e niente e niente a breve mi struccherò e farò la skin care abbastanza non dico molto curata nel senso molto lunga perché ragazzi con questo caldo non è che uno molto voglio stare dietro alla skin care un po' di sapone acqua micella skin active della Garnier poi mi risciacquo tutta mi metto la cremina e poi riparlo con voi se riesco perché tante volte ci possono essere ci possono essere dei degli imprevisti che magari meno diciamo cosa combini cosa non combini perché riguardo i video voi diciamo stanno ancora registrando sì è perché oggi mi ha detto anche oggi devi registrare sì mi fette registrare anche domani che è ferragosto speriamo bene mamma mia non so come devo riposare ma mi piace fare i video mi piace e continuo con i video voi direte non 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 ti fissare con le visual ma è vero sono fissata con le visual ma alla fine vi prometto come in primis a me prometto ma in primis in secondis anche a voi di non fissarmi con le visual perché prima di tutto fa venire la depressione seconda cosa non va bene appunto non va bene fa venire la depressione comunque stessa cosa ho detto e quindi nulla spero che questo video vi possa piacere e spero soprattutto che vi piaccia questo video che grigio appunto i miei video non sono mai tutto questo gran che però cerco di farvi compagnia tutto tutto sommato scusate se prendi mano sempre lo stesso telefono però sto registrando con lo xiaomi però con l'iphone guardo l'orario perché non vorrei sbagliare l'orario o per meno un altro orario però l'orario della della sua sveglia che tra l'altro vi ho fatto vedere un altro video e nulla forse non vi siete accorti o si ma sto registrando questo video che sono seduta tra il muro e il mio letto e sono sopra le mie gambe sono seduta accovacciata alle mie gambe e allora ho tolto le ciabatte queste qui che sono le mie wow le mie adorate da quando le ho prese in farmacia dottor sciole in farmacia vi ribadisco perché sono troppo comissime bellissime e morbidissime soprattutto ho provato la spugnetta novità delle novità quella spugnetta sponge non quella per truccola per struccare puoi dare le maschere e via te scorrendo io me la uso solo per lavare il viso e null'altro e basta vi direi che è molto comoda molto mi piace tanto morbida sul viso solo quando l'ho tirata fuori non so non capisco perché boh l'ho inventata boh quando l'ho aperta infatti ho detto beh ma non male che doveva essere morbida invece con questo caldo si è proprio seccata dentro la busta dentro il suo contenitore l'ho messa sotto l'acqua bollente e diventata di nuovo bella morbidina bella altanto alla texture è diventata morbida 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 e poi ragazzi ci sta che intanto la spugna aperta efficace che vi devo dire cosa altro dirvi l'ho usato con il normale detergente quello a base scrub e gel scrub 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 si della nivea molto buono se riesco vi metto una foto da queste parti del gel appena finisco di fare il video e appena ho il tempo di mettere tutto il video online non è un tutto un unico video solo di domani o di oggi questo è un video tutt'uno che lo farò per adesso e poi lo monto più tardi non lo so quando vediamo è nulla quindi che dirvi ho fatto il letto poco fa l'avrete visto in un altro video grazie degli auguri buon ferragosto buon ferragosto soprattutto a voi grazie che siete così gentili con me e gentili gentili e gentili con me e niente quindi non so come di graziarvi di cuore siete veramente graziosi e graziosissime cosa altro volevo dirvi non lo so penso che oggi in tutta questa giornata mi sia dedicata a fare altro oltre a guardare i vostri video a fare altro si intende per dire a pulire la casa non solo a fare il letto a spazzare camera mia che non è che è sporco che sa quanto però quando mi trucco faccio altre cose per i miei social voi lo sapete non sono molto attiva sui social ma quel poco che ci sto e riesco ogni tanto a tirare fuori qualche contenuto non così tanto interessante però vabbè appunto quando ogni tanto quando mi viene da spazzare perché forse ho sporcato un po' truccando o meno in ogni caso ho una macchia qui sul pantalone perché ahimè mi sto sporcata truccando poco fa infatti ecco perché ho creato questo look non che possa essere così tanto carino ma a me sinceramente non mi dispiace appunto e quindi nulla tra tiktok e instagram mi diverto un casino ragazzi anche youtube non è male anche se youtube oramai sappiamo tutto è un po' una piattaforma obsoleta ma non è detto perché non ci credo che è vecchia youtube youtube è bella se uno le piace youtube lo può usare quanto vuole solo che non tutti lo guardano youtube tutto per intero e vabbè che ci volete fare non parlo solo per me parlo per chi veramente interessa guardare i video e si riguarda tutti inizio alla fine ma appunto non voglio scusate non voglio pretendere da voi che mi guardiate tutto il video per intero se lo volete lo guardate se no vabbè lo stesso anche un cuoricino e poi mi e poi mi chiedete il video fate un po' come volete ma non fa niente vabbè all'inizio ci rimango un po' perché le persone che mi seguono me lo guardano tutto intero altre invece sembra che i miei discorsi sono un po' una logica senza senso vabbè se lo dite voi ogni tanto proverò di nuovo anzi senza promettere e senza dirlo anche se lo dico vabbè non cambia niente proverò a fare i video di polizia e e anche i video di perché andrò più ripresi a fare i video di polizia non so cosa sto aspettando quindi voglio provare a fare video di polizia e anche come si chiamano ASMR non mi ricordavo adesso se mi stava in mente ma non mi ricordavo ASMR sono molto belli perché Claudia è la mia amica di YouTube ovvero la bottega colorata che l'ho letta anche sotto un mio commento ha detto prova a fare i video di ASMR ci proverò ci proverò ci proverò poi cos'altro voglio dirvi niente voglio dirvi semplicemente che seguite su TikTok come medaglia beauty make up vi metterò anche di questo la foto all'inizio e alla fine del video vediamo dei miei social network e di Instagram così mi potete seguire facilmente mi trovate mi sto intertaggando aiuto così mi potete trovare facilmente sia su Instagram che su TikTok e non ho ancora aiuto dopo l'ho detto che il caldo mi sto un po' affliggendo comunque vabbè così mi troverete potrete trovare facilmente su TikTok e su Instagram ciao sono sempre così TikTok che faccio strani complimenti sul facciale e vabbè nulla niente ragazze il video tra un poco è il termine adesso guardo anche io le sue prima che si fa tardi si sono le 19.29 anzi mi sa che il video lo stacco prima perché non voglio vedere struccata in un prossimo video forse si non lo so vediamo o mi truccherò almeno le sopracciglia per non sembrare un orrore dell'orrore vabbè tanto siete abituati a mai vedermi così ma prima non ero così ve lo giuro avevo del sopracciglione allucinante adesso siccome che mi ero un po' tutte spezzettate e tagliate male me le devo sempre rifare perché altrimenti non so cosa sembra la figlia di fantasia cioè niente cosa dire che dire saluto tutte e tutti rinnovo i miei auguri di buon ferragosto buone ferie a tutte e a tutti e un chissà e niente e se sarà stoppato il video allora se questo video vi piace mettete un bel like di supporto un commento iscrivetevi al canale youtube mio e attivate la campanella un bacio scusatemi se si è interrotto il video ma non so cosa è successo perché mi metterà ogni tanto dai numeri vabbè niente che dire a sto punto non mi vedrete struccata ma in altri video forse si per i video di skin care non lo so ho tanti prodotti a provare arriveranno tante altre novità arriveranno anche tante altre novità di trucco o forse smr chi lo sa ci sto pensando non mi scriverò più nulla da qui avanti o forse si non lo so ma chi si è mai scritto nulla quando mai io sono sempre andata più o meno al braccio si posso continuare ad andare al braccio vediamo ciao bacio buona vita a tutte e ci si vede domani mattina o non lo so ah per adesso lo chiudo qua il video poi domani vedrete un altro ciao ciao